Commento mio alla giornata di oggi, domenica 12 settembre, Salone del Camper, seconda giornata o prima delle due domeniche su cui verte questa piera. Allora diciamo subito che questa domenica si sono viste sicuramente meno persone rispetto a ieri che era sabato, perché domani comunque c'è scuola in molte città e in molte regioni d'Italia. Poi era anche una domenica di sole, quindi niente di più facile che qualcuno si sia un po' distratto. Però è vero anche che se non c'è stata la fiume di gente che c'è stata ieri, comunque le persone che si sono viste erano veramente tante, ma tante, sicuramente da record. Cioè è difficile avere trovato un licenza nel camper con così tanta gente. Bisogna andare indietro col tempo e tornare al Valentino, tornare a Europa a vacanze e tornare a Torino. Detto questo andiamo avanti. Ci sono state comunque tantissime persone a vedere i vani furgonati, le caravan, qualcuno anche a vedere i motoromi, i mansardati, i semi integrali. Gli accessori presi d'assalto. Qui la chiave di lettura la diamo con gli accessori. Non tutti gli stand hanno funzionato nella stessa maniera. Ci sono stati alcuni che hanno avuto un successo sia ieri che oggi veramente straordinario. con fatturati che si sono impennati e sono andati ben oltre anche il periodo prepandemico. Altri invece che hanno segnato il passo. Segno evidente che c'è un mercato in fermento, in movimento. C'è un mercato che è cambiato e che sta ancora cambiando e che bisogna essere capaci comunque di intercettarlo. Se lo si riesce a intercettare, ok, si vince. Se non si riesce a intercettare, bisogna correre ai ripari. Lo abbiamo visto anche nelle caravan con delle aziende che producono modelli categori killer, ovvero dei modelli, penso a Eriba, penso a Detras, penso a Caravellera, che solo loro fanno così, con quella definizione, modelli anche molto costosi che avrebbero un successo incredibile in Italia e che non ci sono. E questo fa perdere vendite, fa perdere mercato, fa perdere soldi, fa perdere tante cose. Ed è un vero peccato che almeno i categori killer non siano stati presentati, visto che si vendono da soli. Questo è quanto. Domani sarà presente il ministro del turismo, lo incontrerò, mi hanno detto, intorno alle 11.15, con l'orario lì. In ogni caso vi farò sapere tutto. Non credo che questo incontro sia uno di quelli storici che passeranno alla storia tipo Garibaldi e Re Savoia Teano. Penso più verosimilmente che sia un po' una comparsata, detto onestamente. Però vedremo che cosa succede. Un caro saluto a tutti e ci vediamo domani.